cerchi un'auto comoda compatta e sicura ti presento fiat punto nell'allestimento street eco un modello con motore da 1300 di cilindrata 85 cavalli con alimentazione diesel è un'auto aziendale che ha avuto un solo proprietario che l'ha trattata benissimo infatti come possiamo notare a zero graffi piuttosto classico il colore si tratta di un bianco pastello ottimi anche i consumi infatti in media percorre 18,2 chilometri con un litro il bagagliaio da 275 litri perfetto per la vita in città inoltre è possibile abbattere i sedili posteriori sollevando troviamo la ruota di scorta per le emergenze si tratta di una city car ma lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori non è per niente male sono inoltre presenti gli attacchi isofix sui sedili posteriori laterali il lato anteriore del veicolo è come nuovo i sedili sono in tessuto e sono molto morbidi ed avvolgenti la plancia è in similpelle ed è piuttosto morbida quindi quest'auto ha un'attenzione particolare sia al design che ai comfort acceniamo il quadro notiamo che quest'auto percorso 58.200 chilometri è presente la modalità city il sistema di infotainment è molto funzionale ed intuitivo con radio e multimedia anche il clima è piuttosto intuitivo voglio poi farvi notare la grande quantità di vani porta oggetti vano porta oggetti altro vano porta oggetti con porta bibite altro vano porta oggetti credevate fossero finiti c'è un altro vano porta oggetti nella portiera e la grandissima tasca con porta bibite infine il cambio è manuale e con questo amici abbiamo finito ecco il reminder vai sul sito ratti auto.com blocca quest'auto con soli 100 euro senza impegno ricevi l'accomodamento a casa tua con igienizzazione e garanzia europea seguici su tutti i nostri canali social e attiva la campanella del nostro canale youtube al prossimo video alla prossima auto